Bentornati per queste brevi lezioni per affrontare la quarantena e vediamo oggi la prima parte di un lavoro sul ciclone o l'UN. È un esercizio che consta di sei colpi, tre a destra e tre a sinistra, tra loro concatenati in maniera continua. Il primo è un colpo di chiusura, poi c'è un colpo di rotazione e poi c'è un colpo in apertura. È tutto dall'altra parte, chiusura, primo colpo, rotazione e apertura. Lo stesso principio si applica al ciclone in tutte le sue varianti che vedremo di qui in avanti e può essere allenato in diverse modalità. Quindi ovviamente una volta che il movimento inizia a diventare abbastanza naturale possiamo aggiungerci per esempio un movimento delle gambe avanti e indietro. Cioè ogni volta che facciamo il colpo in rotazione possiamo cambiare la posizione dei piedi. Ora vediamo invece il lavoro se abbiamo a disposizione un oggetto da colpire. Questo ci mostra come il colpo non è un colpo dato totalmente a caso ma sono sei P, cioè sei colpi dall'alto in basso in sequenza continua. Se avete un oggetto che potete usare come obiettivo da colpire vi può aiutare nel indirizzare il colpo. Altrimenti potete cercare di visualizzare uno spazio compreso tra due punti, tra due pareti per esempio due oggetti tra loro più o meno vicini e colpire tra di loro. Con due lame, quindi due sciabole o due maccette, comunque armi che abbiano un filo solo, il movimento è identico ma viene molto più enfatizzato il fatto che il colpo deve essere portato sempre con la parte della lama che nel caso dei bastoni si identifica con la posizione delle nocche e delle dita. Se invece abbiamo una lama ovviamente la lama stessa ci dà il senso del colpo. Il movimento risulta prezioso proprio perché lo possiamo utilizzare con diverse tipologie di oggetti quindi bastoni, lame, un solo lama, un solo bastone e così via che comunque cercherò di analizzare in varie forme in questi video. La stessa cosa che abbiamo visto col bastone la possiamo fare anche con le lame sempre utilizzando un oggetto per colpirlo. Nuovamente come vedete una possibilità è quella di sfruttare il movimento del corpo quindi un lavoro di footwork unito al lavoro dell'arma in modo da non lavorare soltanto in una posizione statica. Vediamo ora il lavoro con un solo bastone dove l'arma armata esegue lo stesso movimento dell'esercizio visto precedentemente la mano libera o viva invece può avere varie funzioni quindi eseguirà ciclicamente gli stessi movimenti di prima ma avrà appunto una peculiarità che è quella di poter afferrare, spingere, colpire o parare. Ora osserviamo invece il lavoro con una sciabola questo lavoro è identico come principio la differenza sta nel fatto che con un'arma così grande e più pesante sarà necessario di solito usare molto di più anche il corpo inoltre essendo una sciabola cercherò di mostrare durante l'esercizio qualche piccolo movimento variante che si può eseguire appunto col fatto che abbiamo un'arma di questo tipo esempio premere e colpire quindi premere e colpire ma la base del lavoro, la base del ciclone rimane identico il mio consiglio è quello di allenare questa prima parte e appunto farla nei suoi vari livelli oltre aumentando la velocità anche sfruttando il footwork e il movimento grazie dell'attenzione grazie a tutti